Salve, buongiorno e benvenuti e benvenuti sul mio canale oggi andremo a fare tapping e rumore tipo pioggia di questa bellissima spazzolina siete pronti? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 4, go! Grazie a tutti. 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 Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi do appuntamento al mio prossimo. Ciao.